Prove di percorsi alternativi questa mattina in via Vittorio Veneto, comune di Belluno, Dolomiti Bus e Provincia, si sono ritrovati alla Veneggia per studiare soluzioni problematiche della viabilità alternativa del trasporto pubblico locale in vista della prossima apertura del cantiere sul ponte della Veneggia. Abbiamo ricevuto alcune indicazioni proprio su questi spazi di manovra e raggi di curvatura messi in sicurezza delle strade. Si entrerà su via Dappos e si uscirà da via De Candel per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Per la viabilità si farà lo stesso tragitto, per la viabilità ordinaria con alcune prescrizioni, ma queste daremo molto più concretezza nei prossimi giorni. Il sopra luogo permesso anche di individuare alcune aree dove poter stabilire le fermate provvisorie del trasporto urbano ed extraurbano, visto che quelle comprese tra la rotatoria di Nogaret e via Del Candel con la nuova viabilità non saranno raggiungibili. Due le faremo sia per l'urbano sia per l'extraurbano in via Ugo Neri che andranno a sostituire provvisoriamente per quei due mesi di cantiere queste fermate che ci sono attualmente in via Tiziano-Vecelio. Proprio per illustrare tutte le novità relative alla viabilità della zona verrà preso distribuito ai commercianti della Veneggia un materiale informativo con tutte le indicazioni necessarie. Cercheremo di dare informazioni con una brochure delle strade chiuse, dove ci sono gli accessi, dove ci sono gli stop, le fermate dell'autobus, cioè tutto quello che possiamo mettere dentro su questa informativa che distribuiremo ai commercianti e ai frontisti della via in modo che la possano dare anche ai loro clienti per chiarire un po' meglio la questione. Certo ci saranno dei disagi, indubbiamente, cercheremo di farli durare il meno possibile, con l'impresa abbiamo già concordato tempi e modi per gli interventi. Per l'avvio del cantiere sul ponte, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno. C'è da spostare un cavo Telecom, in queste ore è stato raggiunto l'accordo per i lavori, ma restano i tempi burocratici. Stiamo definendo l'intervento soprattutto di Telecom per la sostituzione di questo cavo che passa sotto da 800 copie, quindi è un intervento anche importante, ci sono tre giorni di lavoro per loro. Ci stiamo girando già un po' attorno da un po' di tempo, quindi speriamo di chiuderla in fretta, ma in queste ore qui stiamo risolvendo, credo, la questione. Non riusciamo a dare una data per l'avvio del cantiere? La riceverete quanto prima.